ore 19 stanchi morti ce ne riandiamo a casa anzi no dobbiamo andare alla torre eiffel ma chi ne ha voglia arrivederci arrivederci disney studios arrivederci anche se chiudo alle 21 dobbiamo andare via se ne stanno andando tutti amore ok ragazzi per oggi è andata domani siamo dove siamo domani perfetto vi salutiamo a domani buona serata